E' stato inaugurato a Dolianova il Museo della Tradizione Olearia. Si tratta della prima ed unica struttura in San Degna dedicata in macchinari destinati alla produzione dell'olio d'oliva e di attrezzature relative alla sua conservazione. Museo privato, dato che Samora de Sumotario appartiene ad una famiglia di Dolianova, quella dei Loci, La struttura è ospitata nei locali adibiti a Frantoio, che sono stati utilizzati dal 1700 fino al 1978. Due secoli di attività che conservano la tradizione olearia del paese, ma anche di un'intera regione. Dolianova, la pari di altre realtà isolane, ha una grande tradizione nella lavorazione e conservazione dell'olio d'oliva. Il Museo della Tradizione Olearia aiuta a capire i metodi di lavorazione del passato e soprattutto conserva fedelmente uno spaccato di storia locale. Oltre alla presenza di vecchie mole a trazione animale e pressi in legno, va anche evidenziato che nei locali del Samora de Sumotario il visitatore potrà osservare la collezione di lampade ad olio che vanno dal 1500 a.C. fino alla fine del 1800.